Ciao a tutti ragazzi, io sono Chris e siamo qui oggi con questo nuovo video Oggi ragazzi sono qui, tornato con questo video tanto breve quanto importante Lo è davvero tanto e adesso vi vado a spiegare questo progetto che nasce proprio oggi 6 gennaio 2019, da un'idea avuta ieri perciò coloro che mi seguono su Instagram Hanno potuto percepire quello che sarà, perché appunto ieri nelle storie ne ho parlato parecchio E' stata l'unità che mi è venuta tipo alle 5 e mezza di mattina Quest'idea riprende un progetto che avevo portato sul canale principale O meglio sul vecchio canale, e si parla di 4-5 anni fa Il progetto ricordava il fatto di aiutare gli altri Avevo raggiunto una certa popolarità con i video di Call of Duty E quindi avevo dato la possibilità di caricare ad altri sul mio canale i propri video Per farsi appunto conoscere A me è sempre piaciuto cercare di aiutare gli altri Ed è quello che voglio fare grazie ad Instagram e grazie a YouTube Voglio che sotto un post che ho messo su Instagram Ancora lo devo mettere ma quando c'era questo video già l'avrò messo Un post in cui ogni persona che ha una pagina, che ha un profilo Appunto Instagram Commenti, spiegando un po' di cosa tratta la sua pagina Su profilo, quello che sia In modo tale che la gente passi Quindi metterò il post, voi commentate se avete una pagina o un profilo Che tratta di qualcosa in particolare, foto, palestra, cose del genere Qualsiasi argomento ovviamente, ho fatto questi due esempi così veloci Qualsiasi argomento che trattiate lo scrivete lì sotto Vi spammate un pochino, fate una breve presentazione E la gente in teoria dovrebbe passare E la stessa cosa vale per questo video Qua sotto, spammate tutto quello che volete Parlate del vostro canale Spammate Metterò anche un altro video In cui potrete spammare tutto quello che volete Contemporaneamente a questo Metterò questi due video E nell'altro appunto potrete spammare quanto volete O in questo, quello che volete L'importante è che appunto spammiate Sono sempre stato onesto su YouTube Vi dico anche perché lo faccio Ovviamente ho anche un ritorno Oltre ad aiutare voi Che è la cosa più importante E' una cosa che ho sempre fatto Anche quando un ritorno non c'era Questa volta c'è Per chi sia YouTube che Instagram E quest'ultimo molto di più Grazie ai commenti degli altri Fa sì che il tuo post comunque Venga visto di più Compagni e dai suggeriti E quindi ovviamente fa sì che voi Spammiate il vostro profilo Fa anche comunque sì Che i miei post magari vadano più su Perché ormai è l'unico modo Per far sì che i propri post Vengono visti è quello di pagare E vorrei cercare di ovviare a questa cosa Perché il modo c'è E' questo La gente di solito detesta lo spam Qui invece potete Questo è il vostro angolo di spam Quindi mi raccomando Scrivete un commento Anche sull'altro video Come volete Ci vediamo con il prossimo video Da Chris è tutto Mi raccomando Un like Un commento Un iscrizione Arriviamo a 20 like ragazzi 20 like E uscirà il prossimo video Da Chris è tutto Bella Ciao 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 Grazie a tutti.